Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. In A1 fare attenzione per nebbia banchi segnalata sul tratto appenninico tra Rioveggio e Aglio. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale Trebis-Tiberina, a seguito del sequestro preventivo del viadotto Puleto nel comune di Pieve-Santo Stefano, chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Canili e Valsavignone. A Firenze in Piazza delle Cure per lavori, fino a fine febbraio restringimento di carreggiata tra Viale Volta e Viale dei Mille. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!